La chirurgia è uno degli strumenti utilizzati per la gestione delle pazienti con colitulcerosa e malattia di Crohn. Ne parliamo con il professore Antonino Spinelli che abbiamo incontrato all'Humanitas University. Quando è necessario l'intervento della chirurgia nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali? Che ruolo ha e con quali obiettivi? Tradizionalmente la chirurgia nelle malattie infiammatorie croniche intestinali viene utilizzata quando la malattia o le sue manifestazioni o le sue complicanze non possono essere tenute sotto controllo dalla sola terapia medica. Nel corso degli anni insieme alla minore, sempre minore invasività e all'impatto sempre minore della chirurgia con gli sviluppi della chirurgia mini-invasiva e la paroscopica, si è avuto un ampliamento delle indicazioni anche a situazioni in cui strategicamente si decide insieme al gastroenterologo che i valutati, i vantaggi e svantaggi delle due opzioni, la chirurgia è un'arma competitiva come confermano recenti studi. Quali sono le differenti nel ruolo e negli obiettivi della chirurgia della malattia di Crohn e della colite ulcerosa? Allora nella malattia di Crohn molti pazienti, la maggior parte dei pazienti avrà bisogno della chirurgia durante la propria storia di malattia. Nella colite ulcerosa la probabilità di dover necessitare di chirurgia è comunque per, si attesta intorno a un terzo dei pazienti. Il ruolo e la finalità della chirurgia nelle due malattie è molto differente. Nella malattia di Crohn è essenzialmente limitata, tranne piccolissime nicchie, alle complicanze della malattia. Nella colite ulcerosa è relativa quasi sempre alla refrattarietà alle terapie. Poi esistono anche altre indicazioni come in entrambe le malattie la possibilità dello sviluppo di lesioni precancerose o cancerose. Per fortuna queste sono una minoranza e vengono trattate naturalmente, devono essere trattate come vengono trattate agli stessi standard oncologici degli altri pazienti. Perché è importante che il paziente con malattia infiammatoria cronica intestinale sia preso in carico da un centro di riferimento con un approccio di tipo multidisciplinare? Farò un esempio molto semplice. Quando si ha solo un'arma, quindi per esempio solo la terapia medica ma non si affianca a questa un'expertise chirurgico dedicato di alto livello, essenzialmente si tenderà a trattare il paziente sempre nello stesso modo. Viceversa, quando si hanno entrambe le opzioni in mano, si darà al paziente l'opzione migliore a seconda del quadro di cui il paziente necessita.